Smyla and Friends su Radio Birichina E con tutta la famiglia e tutti gli amici di Umberto Smyla è arrivato anche Nini Salerno, benvenuto Grazie, sei tu Birichina? Un po', da certe sere si Ma sei tu che chiamano Birichina? Per adesso no O è proprio un titolo generico È il titolo generico della radio proprio da sempre Ah no, pensavo si tu Però qualche sera posso dirvi Però sei Birichina comunque Anche sì, anche sì Bravo Senti, stiamo chiedendo il ricordo più bello che hai con Umberto So che ne avete collezionati un milione con i gatti Però tu uno che ti è rimasto nel cuore? No, guarda, non te lo so dire Perché abbiamo vissuto talmente e tanto intensamente Per tanti anni, sempre, tutti i giorni Dalla mattina alla sera Vivendo nello stesso appartamento Non so se te l'ha detto Gerry No, vedi che non me l'aveva detto Quindi tutti in un appartamento È fondamentale All'inizio di carriera, dal 71 Che noi abbiamo cominciato al derby nel 71 Si siamo messi e cercavamo un alloggio a Milano Abbiamo trovato un appartamento E siamo andati tutti a vivere nello stesso appartamento dove abbiamo vissuto per cinque anni Chissà che casino Pulizie, donne Puoi immaginare Vestiti Anni 70 Rock'n'roll La libertà assoluta Chissà che cosa bellissima Infatti, ripeto, siamo ancora astorditi Vabbè, oltretutto noi e... Perché poi c'è un quinto gatto in tutto ciò Che si chiama Diego Batantuono Perché lui era il nostro tecnico delle luci Ma dai, non la sapevo Allora già non hai detto niente Niente, ti ho detto che non mi hai detto niente Eri preoccupato Tu invece vedi... E quindi Diego, tecnico delle luci Il signor Diego Batantuono, all'età di 16 anni Caspita ragazzi Io sono il più vecchio Ho 76 anni quasi Lui aveva 16 anni nel 71 E venne a lavorare con noi E lui faceva già le luci al derby Perché la mamma era la guardarobiera del derby E praticamente ci conoscemmo Facciamo amicizie E lui venne a fare il nostro tecnico delle luci Per dal 71 al 77 Caspita Quindi abbiamo cresciuto noi La scuola l'ha fatta sul palco vostro Sì Ma nella vita soprattutto Perché vivevamo Nella stessa parte Ma lui viveva Con i suoi al giambellino ovviamente Però quando si svegliava Le due del pomeriggio Vi raggiungeva E via che si parte E partiva la giornata Poi andavamo a fare le serate insieme Gli avete insegnato le cose peggiori Immagino Un ragazzo giovane Con questo gruppo di quattro artisti Guarda È stato il nostro fratello minore Lui Nella famosa Quell'età lì L'età della formazione Ecco Quindi Per questo siamo ancora super fratelli Io Diego Lo sento un giorno Sin giorno Senti com'è che a un certo punto Te ne sei andato a Roma Non ne potevi più Di tutti quanti Sto scherzando No 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 È successo che io Mi sono sposato Con una Una signora di Roma E già quello Mi tirava Dicendo Ma perché Andiamo Milano e Roma In effetti Per il mio gusto personale A livello di Clima Di cose Così a me piace stare all'aperto Stare in giardino Quindi già era portato Poi A un certo punto Nel 78 Io e mia moglie Adottammo un bambino Di colore Dei Caraibi Che adesso è qui Stasera Ha 48 anni Ne aveva due Quando Due anni Quando l'abbiamo adottato E quindi Roma E il bambino De colore E il clima Le cose Nel 79 Sono andato a vivere a Roma Che meraviglia Un grazie di cuore Per questi ricordi bellissimi E Nini Salerno Grazie a voi Ciao Birichina